Ovviamente è una frase semplificata, quello che intendo dire è che solo le altcoin prodotte finora sono sicuramente scame e solo al 99.999% quei prodotti di futuro saranno, ovviamente c'è un margine di incertezza che è giusto scientificamente inserire in termo. La prima definizione, il primo punto a favore di questa controversa affermazione è un punto di realtà di fatto. Voi prendete le altcoin che ci sono ora e dividetele in due grossi pacchetti. Il pacchetto inferiore è quello dei cosiddetti trader shitcoins, scusate il francesismo, ma sono quelle con la cui liquidità è così bassa che sono praticamente quelli che gli inglesi chiamano schemi pump and dump, cioè quella liquidità di un asset così basso che basta organizzarsi in un gruppo di 200 persone, comprare tutto insieme, il prezzo sale perché la liquidità è bassissima, allora gente fuori vede che il prezzo sale, comprano anche loro e le persone che hanno organizzato vengono tutte insieme. Questo è praticamente ciò che avviene dal ventesimo in giù andando tranquillamente fino al 200 e 300. Però ci sono i top 20 che invece hanno liquidità che comincia ad essere importante. Andate a vedere da vicino e qui purtroppo se chi di voi, se qui abbiamo appassionati di IOTA, appassionati di Ethereum, possiamo entrare nel dibattito specifico. La mia valutazione professionale dopo anni di studio su queste cose, che non prendete però a colato, verificate sempre. Quindi quello che io vi dico, ho raggiunto io come conclusione, inequivocabile, è che con gli uni di questi progetti in top 20, per una serie di ragioni, sono una serie di cattive idee proposte per Bitcoin intorno al 2012-2013, non accettate il Bitcoin perché non aveva senso, recuperate da team del 2015-2016-2014, cioè rivendute come nuove e come possibili, rese possibili da due fatti. Primo, nessuno ne usa e qui tutto funziona e qua nessuno ne usa. Due, tutto è centralizzato sotto un punto di comando e qui tutto funziona quando è centralizzato e questo rappresenta sostanzialmente tutte le top 20. Nel merito vorrei parlarvi, non so, Ethereum. Guardate su ethereum.org e c'è una, la prima scritta che avete è Build Unstoppable Application, vuol dire costruite applicazioni che non si possono stoppare, sotto la specifica, costruite applicazioni che non possono essere fermate da nessun ente corporativo o governativo, eccetera, eccetera. Problema, quando una di queste applicazioni ci mettono i soldi molti decretori di Ethereum e li perdono perché hanno scritto male il codice, del DAO, Ethereum viene praticamente fatto rollback per cancellare la storia precedente, stoppare l'applicazione e annullare quello che l'applicazione ha fatto. Quindi, tenere sul sito, potevano forse fino al 2016 tenere quella scritta, oggi quella scritta è una vera e propria truppa commerciale, cioè vi vendono delle applicazioni stoppabili con la premessa che sono non stoppabili finché non decidiamo di stopparle noi, perché magari c'è un caso solo di noi. Ma Ayota, Ayota è una storia fenomenale di dei ragazzi che hanno avuto idee e hanno rivenduto idee molto carine per sé, tipo il calcolo ternario. Voi sapete che non usiamo computer guardati sul binario. In realtà nell'Unione Sovietica c'erano dei scienziati che cercano di fare computer che funzionavano a ternario bilanciato, invece di avere 0,1 avevi 1 e meno 1 e lo 0 era l'indefinito, diciamo il cluster nullo. Questa cosa qui aveva detto i vantaggi e i svantaggi, ha vinto il sistema occidentale, questi ragazzi nel 2008, prima di Bitcoin, quindi un anno prima, hanno cercato di rilanciare dei chip che funzionavano sul ternario bilanciato. L'hanno mandato sul mercato, carinissima l'idea, il problema è che, come dicevamo prima, quando uno standard esiste, sostituire lo standard anche se il tuo migliore non va da nessuna parte, specialmente se è sindacabile per il tuo suo migliore. Allora, queste macchinette sul ternario bilanciato non vendono niente a 2008, se non che nel 2016 si andano conto di prendere questo vecchio buzzword del ternario bilanciato, unendolo alla nuova buzzword di cui tutti parlano che è l'IoT, l'Internet of Things, e unendolo alla blockchain, perché no, mettendoci insieme un'altra parolona che era le DAG Chain o Ashcraft, insomma, un'alternativa strutturale alla blockchain che è molto carina, come diamo, non ha mai funzionato, per ora non può funzionare e nessuno sa come farla funzionare, centralizzando tutto con una cosa che chiamano coordinatore, lanciano sul mercato, tre idee che non hanno mai funzionato, accolpate in una, e per ora funziona, nel senso che funziona, nel senso che potete, finché loro non decidono il contrario, potete passarvi queste cose che non serviranno mai per l'IoT, eccetera, eccetera. Questo tipo di commenti negativi, pensate a Zcash, Edward Snowden promuove Zcash, la moneta della privacy. La Zcash è un flow di bitcoin, dove hanno aggiunto un tipo di transazione che, grazie a una criptografia particolare, nasconde l'origine del signatario e la map, per dare più al minimato. Peccato che questo tipo di transazione, chiamato Zcash, costa ordini di grandezza in più di fee, di tempo di organizzazione, e tempo di firma, e quindi praticamente quasi tutti, è opzionale, quasi tutti usano la T-Transaction, che è una via economica, che è una normalissima transazione bitcoin completamente tracciabile. Risultato, c'è gente che sente Snowden, quindi va su Deep Web e usa i suoi Zcash, perché sono più anonimi, e in realtà usa transazioni perfettamente visibili, con il più problema che, siccome Zcash, a differenza di bitcoin, lo usano in quattro gatti, quello che si chiama set di anonimato, cioè quanto dubbio ho su chi sei tu, è ridottissimo a quattro gatti, in più, se anche volete usare la Z-Transaction, siccome la usano altri due gatti, avete ulteriormente ridotto, quindi siete più anonimi sull'altra transazione in chiaro, che sull'altra transazione a z, perché il vostro limite è sempre, anche a guardare le statistiche su Zcash, praticamente è molto potente al giorno, quindi siete voi, punto. In questo viene venduto, ma io, come detto, su questo tendo alla foca, non ho molta carità su questi progetti, perché fanno dei cremi importanti, che per alcune persone potrebbero significare anche conseguenze penali, pesanti. Vendere la privacy quando non esiste, non è un problema soltanto di essere un po' esageratini come tecnologico, ma è proprio di vendere false speranze che possono portare le persone a finire nei guai. Se qualcuno costruisce una stoppable application che viene fermata, va bene. Se qualcuno invece compra la moneta della privacy e viene tracciato più facilmente che un bitcoin, non tracciato, attenzione, solo dalla polizia. Quando si dice tracciato su una blockchain, significa tracciato da tutti, compreso il possibile rapitore, il concorrente di mercato che non... La privacy non è una cosa che serve ai criminali. La privacy è una cosa che serve a tutti quelli che sanno a cosa serve una tendina in casa o a cosa serve un box in esplicio. Serve perché nel business e nella vita privata non tutte le informazioni devono andare a tutti gli attori, altrimenti cancelliamo ogni logica di concorrenza, segreto industriale, sicurezza personale, sicurezza contro i rapitori o attaccanti esterni. Quindi le prime 20 sono scam, a parte di scuola. Le altre sono scam per riduzione. Ma andiamo sul teorico. Magari un domani invece arriva la vera nuova valuta su tutti i modi di bitcoin. Allora qui andiamo più su un concetto di probabilità. Riprodurre bitcoin è effettivamente molto 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 improbabile. Perché riprodurre bitcoin è molto improbabile? Per due motivi. Il primo è che la moneta ha un effetto... Il vincitore prende tutto. Come dicevamo prima, se tutti quanti parlano inglese, la probabilità che voi riusciate a fare la vostra conferenza in Esperanto è molto molto bassa. Ma l'esperanto è meglio, è stato fatto? Va bene, ma si parla in inglese. Le infrastrutture di base hanno questa caratteristica, che diventano convergenti e stabili. È il controllo dei prodotti. Molti dicono bitcoin è come MySpace, ma poi arriva Facebook. Bitcoin è come la Model T della Ford, ma poi arriva la Tesla. Vabbè, c'è tanti dopo però. Questa è la metafora. Sbagliata. Bitcoin è come Internet. E quello arriva dopo Internet? Internet. Magari dopo 300 anni arriva una versione nuova di Internet che mantiene tutta la retrocompatibilità, al massimo evolve. Ma non c'è il concorrente. La società, le interazioni umane sono fatte a strati. Le strati di base, la telepatia dopo Internet, esatto. Però magari la telepatia manterrà il dominio .com per fare la telepatica dell'e-commerce, perché vuole la retrocompatibilità.